Perché gli uomini non ti corteggiano ma vanno subito al sodo? Molte donne si lamentano di incontrare uomini che non perdono neanche, come dire, tempo e energia a corteggiarle, ma propongono subito, esplicitamente, diciamo, rapporti intimi, anzi talvolta già dalla conoscenza, magari nel web o mandano subito foto del ciccio bello, insomma, molto esplicite e le donne si sentono trattate, diciamo, come una di quelle, insomma, molte donne si sentono un po' ferite nella propria dignità. Ora, tieni presente questo, che il comportamento di un uomo è, come dire, dipende molto anche dall'atteggiamento che tu hai o dall'idea che tu trasmetti. Certo, ci sono anche uomini che sono, come dire, eccessivamente volgari, ma tu non appena capisci che un uomo sviluppa un minimo di volgarità, che fa subito delle allusioni, che sessualizza subito la conversazione, devi chiudere all'istante, sparire completamente, dicendogli, per chi mi è preso, non sono un amico di quelle, se cerchi una così, vai da tua sorella, ok? Quindi devi subito essere estremamente penalizzante, perché quando uno inizia subito a sessualizzare il discorso vuol dire che alla fine ti vede così, probabilmente, come dire, magari è un po' l'immagine che dai, potrebbe essere, non potrebbe essere, ma indipendentemente da tutto, devi subito bloccare. Molto meglio apparire una donna più rigida, più istituzionale, che una donna eccessivamente aperta, eccessivamente disponibile, perché in questo modo attiri tutti i maiali, diciamo così. Se invece sei rigida, appare subito difficile, beh, attirerai molti meno uomini, ma sicuramente quelli che attiri metteranno energie per conquistarti. Quindi qua dipende un po' dal tipo di situazione che vuoi. Se vuoi, come dire, attraere tanti uomini, ma poi devi selezionarli subito, e quindi ne attiri tanti al primo segnale, però devi subito penalizzare in quel modo che ti ho detto, oppure per prevenire la fonte devi manifestarti più rigido, dare meno confidenza, molto più istituzionale e ovviamente si avvicineranno molti meno uomini. Però facendo questa prima scrematura sai che quelli che si avvicinano hanno un minimo di garanzia, almeno dovrebbero darle. Ecco, questa è la motivazione. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo Liberty dei Narcisisti con Massimo Terramasco.